Quando nel piano di lavorazione vedevo che stava arrivando quella scena che l'avrei dovuta fare di lì a pochi giorni, era una di quelle che sentivo come le più difficili. La scena di cui si è parlato prima con Isabella, io ho trovato più difficili da fare la scena del pianto, quella che ha citato lei, o la scena dell'oppio con Alessandro Gasman, con mio fratello. Ero più preoccupato per quelle quando si stava avvicinando il momento della ripresa. Cosa trovo più logorante o meno logorante? Ma per me, in questo caso mi sono trovato benissimo, perché era la prima volta in cui non ero in una situazione protetta, perché mi è capitato un paio di volte di fare l'attore, nella seconda volta di Calopresti, nel portaborse di Lucchetti, però era in una situazione protetta, perché erano film prodotti da me e da Angelo Barbagallo, insomma, con la Saker. Quindi questa volta c'era un altro regista, Antonello, e c'era un'altra produzione, la Fandango. Mi sono trovato benissimo con entrambi, sarà una pacchia per me, fare l'attore e concentrarmi, potermi concentrare solo sull'interpretazione. Insomma, ecco... Ehm... Ehm... Ehm...